Cara Presidente Meloni, lei trova giusto che in una giornata di campagna elettorale, nel bel mezzo del corso di Civita Vecchia, un suo consigliere comunale mi abbia insultata? Noi siamo entrambe madri di figlie femmine. Io le chiedo, ma quale società in questo modo costruiamo per le bambine che crescono nel nostro paese? Evidentemente, Presidente Meloni, non basta un partito a guida femminile per avere una classe dirigente rispettosa delle donne.